Buongiorno a tutti ben ritrovati e questa è la rassegna stampa occhio ai giornali di martedì 6 ottobre 2015 sul canale 17 subito le notizie con cominciamo però dall'almanacco l'almanacco prevede il santo del giorno e allora eccolo qui san bruno san bruno e quindi naturalmente come sempre festeggiamo auguriamo anche se non facciano diciamo tutti i giorni ma in sottointeso insomma facciamo gli auguri a coloro che portano il nome di questi santi che ci hanno preceduti allora san bruno è stato sacerdote il sole è sorto alle 7 10 tramonterà 18 42 sono 17 gradi alle 7 e mezzo del mattino la protezione civile delle marche prevede per oggi un cielo nuvoloso con parziali schiarite deboli precipitazioni sparse anche carattere di rovescio nelle zone dell'entroterra e a nord della regione quindi la provincia di pesero urbino le temperature sono in aumento i venti sud occidentali il mare sarà poco mosso per la giornata di domani mercoledì 7 di ottobre ancora cielo nuvoloso con deboli rovesci sparsi soprattutto al mattino le temperature sono in diminuzione i venti inizialmente occidentali poi in rotazione da nord ovest dalla tarda mattinata il mare sarà mosso per giovedì la musica non cambia è sempre la stessa con cielo nuvoloso molto nuvoloso temperature in diminuzione ci saranno occasionali rovesci sparsi previsti in particolare nel centro meridione della regione i venti nord occidentali il mare sarà mosso poi le condizioni per i prossimi giorni di debole instabilità con cielo prevalentemente nuvoloso appunto caratterizzeranno il resto della settimana e l'inizio della prossima ancora una vita spesa per il mare quella del comandante gaggi comandante gabriele lele gaggi che è morto nella giornata di ieri mentre era al timone della sua imbarcazione il palissandro era al largo di ancona lo ne parlano naturalmente tutti i quotidiani questa mattina qui siamo sulla pagina di fano dell'arresto del carlino il titolo è l'ultima pesca del comandante addio alle legaggi morto in mare fulminato da un infarto sul suo palissandro a 40 miglia da ancona il compagno lorenzo racconta e dice stava male dal mattino ma non voleva dirlo poi è svenuto e non c'è stato più nulla da fare qui le due fotografie sono ovviamente la l'immagine che ritrae le legaggi con la maglietta dove c'è scritto brodetto morette alma quindi tifoso anche del del fano poi l'altra invece più drammatica sicuramente quella del momento in cui la salma di lele appunto viene scaricata sulla banchina del porto di ancona la pagina di fano del corriere morto lele una vita per il mare mare gabriele gaggi 56 anni stroncato da un infarto al comando del palissandro in memoria della vittima anche una poesia in dialetto che tra l'altro abbiamo pubblicato anche sul nostro sito internet pescatore da 30 anni secondo una tradizione di famiglia inutili i soccorsi il cordoglio di tutta la marineria sempre su questa notizia la pagina della messaggero di fano malore in mare sul peschereccio il comandante muore al timone ieri mattina a largo del porto di ancona vittima il fanese gabriele gaggi di 56 anni un collega ha tentato di rianimarlo dice ho provato di tutto ma non ce l'ho fatta il pescatore era a bordo dell'imbarcazione palissandro quando all'improvviso si è accasciato inutili i soccorsi il dolore degli amici al bar del conte per lele che da 40 anni solcava le onde due mesi fa racconta il giornale si era infortunato ma era tornato al lavoro perché si sentiva risposta responsabile di quell'equipaggio le altre notizie le altre notizie sempre sul sul giornale sul resto del carlino regione troppa casta giù gli stipendi nel mirino di franchini del partito democratico silvano franchini i compensi dei consiglieri regionali e regionali l'idea di franchini è di rivedere al ribasso quelle voci economiche che fanno salire le retribuzioni dei consiglieri regionali ben oltre i 6.400 euro e l'idea franchini lo vedete eccolo cerchiato adesso nel tondo giallo franchini pensa di promuovere una iniziativa di legge popolare con la raccolta di 5.000 firme la costituzione di un comitato promotore carnevale e jazz coppia vincente sarà la dixieland dell'adriatico poi ci sarà anche la festa della fortuna sono le idee dell'ex assessore zachilli che vuole unire il carnevale con il jazz immagino dice una città che balla a ritmo di jazz blues e dixie music poi per quanto riguarda itinerari incontri invece un appuntamento dall'eremo di montegiove a fonte vellana il programma itinerari incontri è il turno dei filosofi e dei saggisti lo potrete leggere sul giornale poi a mondavio invece chiude per sfratto il ristorante albergo locanda i cappuccini di mondavio c'è uno sfratto dietro alla chiusura improvvisa in attesa almeno per i clienti che avevano prenotato per le ultime settimane di questo albergo ristorante che si trova appunto a mondavio a san cile l'abbassamento delle saracinesche è stato l'ufficiale giudiziario in esecuzione di un decreto esecutivo per morosità tanta gente per l'ultimo saluto al giornalista paolo paolo che è stato salutato ieri nella chiesa di san borromeo san carlo borromeo paolo angeletti scomparso improvvisamente a 57 anni vedete in questa immagine una chiesa strapiena tanta gente una chiesa gremita dall'umile al nobile e poi la musica la musica che ha accompagnato l'ultimo abbraccio andiamo adesso sull'altra pagina del carlino per parlare di caldaie perché arriva il bollino verde costa 14 euro ed è obbligatorio serve per garantire l'efficienza energetica dell'impianto termico entro la prima settimana di ottobre il manutentore potrà collegarsi al sito di aspes dove potrà trovare tutte le informazioni utili per partire con questa attività previste dalla nuova legge regionale i costi abbiamo detto costa 14 euro poi chiaramente dipende anche molto dalla potenza degli impianti ma insomma siamo più o meno quelli domestici siamo lì allora andiamo adesso sul Corriere Adriatico fusione nessun referendum prima del voto i due consigli dicono sia l'atto esecutivo dell'esecutivo Ceriscioli ma a Monbaroccio i contrari non si arrendono c'è l'intervento anche del consigliere regionale Carloni chiederò un'audizione in commissione affari istituzionali è un incontro con il prefetto e c'è un altro paese abbiamo detto che si unirà con una città più grande è Tavoleto che si unirà si fonderà probabilmente con Urbino la giunta regionale approva la proposta di legge soddisfatto il presidente tutto il sostegno per la semplificazione delle procedure amministrative che vanno espletate dai comuni il parere andrà all'esame della commissione consigliare competente poi dell'assemblea legislativa delle Marche andiamo sull'altra pagina da Candelara otto giorni illuminati dalle candele Candelara scalda i motori per l'evento clou del Natale e sul giornale di questa mattina avrete le prime anticipazioni poi strategia rifiuti zero le osservazioni dei 5 stelle il movimento ha elaborato in modo condiviso su base territoriale il piano per una raccolta differenziata all'85% Sgarbi promette attenzione per i bronzi a Pergola ospite d'onore della fiera del tartufo conferma il suo impegno perché le statue restino lì in paese per il giorno dell'inaugurazione abbiamo già detto oltre 15 mila visitatori prodotti di qualità e di alta qualità e tanti sindaci e poi invece a saltare c'è la festa d'autunno con i funghi protagonisti insieme alle associazioni e sotto da Sant'Ippolito cambia la velocità restano però le buche provinciale mondaviese percorribile ai 30 all'ora ma la strada è un vero percorso di guerra Orciano gli evacuati rientrano nelle case i negozi riaprono i battenti Oragine di Orciano il sindaco ha revocato le ordinanze e dice situazione messa in sicurezza ora i lavori definitivi Apriamo la pagina del messaggero a centro pagina il debutto domani lo show al Teatro Rossini di Beppe Fiorello sui social dice Pesaro sto arrivando Fiorello arriva a Pesaro per il debutto stagionale di domani a Rossini saluta i suoi fan su Facebook poi Scavolini apre a Las Vegas, BS in Turchia nuovo store di cucina negli Stati Uniti e una filiale dell'azienda di macchinari ci aspettano giorni grigi e piovosi queste sono le previsioni dettagliate sul messaggero di oggi la pagina regionale invece la regione non assume più attingiamo alle province stretta sulle spese della macchina burocratica in aula si vota il taglio di 77 mila euro destinati ai gruppi consigliari Norma, Perassa, Marpa, Mersu ed Erap Marche giù dell'80% il costo consulente del 50% invece nelle missioni Fabrizio Costa segretario generale e capo di gabinetto dunque fine della telenovela Ceriscioli spenderà 40 mila euro in più l'ex segretario Elisa Moroni resta con lo stesso compenso poi c'è naturalmente anche la notizia del treno bianco e del racconto di coloro dei marchigiani che a un certo punto se la sono vista un po' così un po' brutta quando il treno si è bloccato i treni si sono bloccati a causa del fortissimo maltempo che ha colpito la costa azzurra treno bianco, lungo viaggio verso casa tra malori e proteste insomma c'è tutto il racconto di quello che hanno vissuto le persone in quei momenti Santa Marta Santa Marta, la partenza della scuola è ostacoli le classi, l'abbiamo già detto più volte divise tra quattro sedi creano disagio agli alunni e anche agli insegnanti il preside dice non ci ho dormito stanotte autobus in ritardo rispetto alle elezioni strade rischiose, docenti costretti a spostarsi ogni ora in tutta la città Nicolini dice non ci sono problemi legati ai trasporti ma è difficile conciliare tutto e ci lavoreremo per rendere un po' più semplice la vita di tutti quanti la fusione passa ma è muro contro muro nervi tesi in consiglio comunale tra la Giunta e 5 Stelle l'assessore delle noci attacca Cecconi e l'anti pesarese a Monbaroccio atmosfera ancora più incandescente con l'opposizione e il pubblico che abbandonano la seduta oltre 500 firme per far votare subito i soli monbaroccesi e ancora da Orciano invece la voragine superata l'emergenza, rientrate le famiglie il sindaco ha mantenuto l'ordinanza di sgombero solo per la casa più vicina al cedimento della strada Dionigi le mie origini pesarese sono un antidoto contro i tanti veleni poi sotto con l'aiuto di Rossini il volley Maicicero promette di essere tutta un'altra musica stiamo parlando della squadra che prenderà parte del campionato di serie A2 femminile di pallavolo la presidente Barbara Rossi dice lo sport è cultura e la pallavolo vuole fare cultura l'ultima pagina è quella di Fano del messaggero il PD stringe il cerchio sul presidente del consiglio comunale poi sotto Palazzo Nolfi si conclude il risanamento aggiudicati i lavori per il completamento dell'ala dello stabile crollata nove anni fa quando ospitava gli uffici giudiziari poi il nuovo contratto di rete aiuta le piccole imprese questa era l'ultima notizia segnalata all'interno della nostra segna stampa che torna domani mattina come sempre alle 7.30 grazie per averci seguito vi ricordo il nostro sito internet occhioalanotizia.it con tutti gli aggiornamenti davvero in tempo reale i nostri social network potete iscrivervi sia alla pagina di Occhio che alla pagina di Fano TV e poi stasera il telegiornale alle 20.30 qui sempre sul canale 17 arrivederci a presto